Sabrina Ghio e le foto del suo matrimonio con Carlo Negri stanno facendo il giro dei social, ma chi è lui? Sabrina Ghio ha condiviso sui social le foto del suo matrimonio, l'ex volto di uomini e donne e la sua dolce metà sono diventati ufficialmente marito e moglie Ma chi è Carlo Negri? Leggi anche, Angelica Benevieri, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo? Età, lavoro, foto, TikTok, ultime news e Instagram Il matrimonio di Sabrina Ghio Sabrina Ghio ha condiviso sui social le foto del suo matrimonio insieme a Carlo Negri, da poco i due sono diventati genitori della piccola Mia, nata il 7 giugno del 2022 Alla cerimonia, quindi, presente anche la piccola e la figlia maggiore dell'ex volto di uomini e donne, Penelope, nata da una precedente relazione La cerimonia Sabrina Ghio e suo marito Carlo hanno celebrato il matrimonio in comune e il prossimo sabato ci saranno i grandi festeggiamenti, ieri sera la coppia ha gioito insieme ad amici e parenti e la serata è stata costellata da sorrisi, risate, allegria e amore L'abito di Sabrina era corto, con una grande rosa sulla vita I suoi capelli sciolti incorniciavano perfettamente il viso e l'enorme bocca e faceva brillare il bellissimo anello sulle mani della showgirl Foto, chiocciola Sabrina Ghio, IG, chi è Carlo Negri? Carlo Negri ha 30 anni ed è nato nel 1991 a Caserta Non sappiamo esattamente quale sia la sua professione, ma possiamo dire che sia davvero redditezza a giudicare dai viaggi a Dubai, in Costa Smeralda, a Mikonos e dal tenore di vita resi pubblici nel suo profilo Instagram Ha anche un numero elevato di follower al suo seguito, molti di più della fidanzata Per il resto è tutto top secret Seguici su Instagram cliccando qui E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao